Lidia Mena Pace Lidia Mena Pace è stata una donna coraggiosa, una tra le voci più importanti della cultura delle donne, dei movimenti della società civile e della non violenza. Senza le donne la resistenza in Italia non ci sarebbe stata. Fu salvata dalle donne che a tutti quelli che scappavano dalle caserme offrirono una casa, un tetto, un piatto di minestra. Se non ci fu un massacro fu proprio per questa ragione. Quasi senza accorgersene si trovò dentro le faccende clandestine con il nome di battaglia di Bruna. Io sono la rivoluzione! Noi siamo la rivoluzione! Grazie! Grazie! Grazie!